Signor Tyrell, io ho portato un amico. Salve, mi sorprende che tu non sia venuto prima. Salve, non è una cosa facile incontrare il proprio artefice. Ah, e che può fare, perché? Può l'artefice ritornare su ciò che ha fatto. Perché? Ti piacerebbe essere modificato? Resta qui. Avevo in mente qualcosa di un po' più radicale. Quale sarebbe il tuo problema? La morte. La morte. Beh, questo temo che sia un po' fuori della mia giurisdizione. Io voglio più vita, padre. Abbiamo i nostri limiti. Produrre un'alterazione nella evoluzione delle strutture di una vita organica è fatale. Un codice genetico non può essere corretto una volta stabilito. Perché no? Perché entro il secondo giorno di incubazione, ogni cellula che sia stata sottoposta a mutazioni irreversibili, dà luogo a colonie involutive. I topi abbandonano la nave che affonda. E poi la nave affonda. E attraverso una ricombinazione delle MS? Un tentativo già fatto. L'etilmetano sulfonato è un agente alcalinizzante, un potente mutante che aveva creato un virus così letale che il soggetto era morto prima di lasciare il tavolo. Allora una proteina repressiva che blocchi la cellula operante. Non impedirebbe la riproduzione, ma ciò darebbe luogo a un errore nella replicazione, di modo che il DNA di nuova formazione comporterebbe una mutazione e si avrebbe di nuovo un virus. Ma questo... Tutto questo è Accademia. Siete stati fatti al meglio delle nostre possibilità, ma non per durare. La luce che arde col doppio di splendore brucia per metà tempo e tu hai sempre bruciato la tua candela da due parti, Roy. Guardati. Tu sei il figlio al prodigo. Sei motivo d'orgoglio per me. Ho fatto delle cose discutibili. Anche delle cose straordinarie, eroi. Godi più che puoi. Cose per cui il dio della biomeccanica non ti farebbe entrare in paradiso. Non ti farebbe. No, no, no. No, no, no.